Siamo a Mugen, ad una delle manifestazioni più importanti della Francia gastronomica, in presenza del sindaco, signor Galli. Vogliamo fare una domanda al sindaco. L'Etoile de Mugen è una delle massime manifestazioni in campo gastronomico. Si vuole raccontare un pochino di questa manifestazione? Siamo arrivati alla decima edizione, quindi sicuramente un peso molto importante. Siamo arrivati alla decima edizione dell'Etoile de Mugen, un'importante manifestazione in ambito gastronomico famoso in tutto il mondo. Nel 2006 nasce la manifestazione, quindi siamo arrivati alla decima edizione, nasce come contributo a Roger Verger del Moulin de Mugen, che dal 1969 ha dato luogo a quest'idea. Monsieur Verger ha smesso poi la sua attività nel 2003, ma si è sentito poi il bisogno di fare un omaggio al suo prezioso contributo all'ambito gastronomico e così si è deciso di continuare questa manifestazione. Oggi il festival di Mugen, il festival internazionale della gastronomia, è sicuramente più conosciuto all'estero che in Europa, perché conta un numero significativo di cuochi, ne abbiamo circa 130 all'anno, il che vuol dire che in dieci anni abbiamo avuto oltre 130.000, 13.000 chef che si sono avvicendati qui sulle piazze di Mugen e che sono i principali vettori di comunicazione di questo importante evento. Il tutto plasmato su tre giorni, dal venerdì al sabato alla domenica. Il venerdì è un giorno speciale perché è dedicato ai bambini e in occasione dell'inaugurazione del festival della decima edizione i bambini hanno realizzato in collaborazione con i cuochi, nel loro atelier, una torta per celebrare questo importante avvenimento. 30.000 i visitatori presenti ogni anno, quindi un numero significativo per un festival che è destinato a diventare sempre più importante.